Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico anche questo episodio dal colore di Retrocomputing questa puntatona di Retrocomputing un po' ucronica parleremo di... e se l'Olivetti avesse costruito un Olivetti MSX Home Computing sì, avete capito bene parleremo di un'ucronia informatica tutti sanno che il primo computer elettronico dell'Olivetti fu l'Olivetti M20 creato nel 1982 era motorizzato da uno Zilog Z81001 da 8 MHz la macchina disponeva di 128 KB ma poteva essere espansa a 512 K era un computer professionale molto veloce con i suoi 8 MHz e con 512 K di memoria valori stratosferici quando all'epoca il VIC20 aveva 1 MHz di clock e 20 KB di RAM nello stesso anno eh i prezzi ovviamente erano molto diversi l'M20 in teoria avrebbe potuto essere compatibile con il software MS-DOS essendo dotato dello Zilog Z81001 avrebbe potuto far girare il CPM ma in realtà l'Olivetti M20 fu dotato di un sistema operativo proprietario dell'Olivetti quindi risultò incompatibile con l'IBM all'epoca la incompatibilità era cosa comune tra i produttori di computer tuttavia con la diffusione dell'MSDOS per la Microsoft per PCBMXT e quant'altro ebbero a nascere tantissimi compatibili PCBM di conseguenza l'Olivetti ebbe a produrre l'Olivetti M24 con cui mise da parte il più vecchio M20 nel 1983 giusto un anno dopo fu progettata la piattaforma MSX cioè proprio nel 1983 fu presentato in Giappone la prima linea di macchine MSX appartenente ad un progetto hardware concepito da Katsuhiko Nishi per avere sul mercato una linea di computer compatibili da parte di diversi produttori e la mitica CPU Zilog Z80 quanto dei computer MSX ho già discusso quindi nel 1983 già il primo hardware MSX ebbe a diffondersi sul mercato mentre l'Olivetti M20 fu proposto nel 1982 quindi l'anno prima quindi è strano l'Olivetti sicuramente sapeva della piattaforma MSX tuttavia l'Olivetti nel 1983 ignorò completamente il segmento home computing all'Olivetti all'Olivetti non interessò il grande successo del VIC-20 del 1981 quanto del Commodore 64 nel 1982 lo stesso anno di introduzione dell'Olivetti M20 mentre nel 1983 fu proposto il primo modello di MSX quindi la storia ricorda che la prima ed unica linea di home computing dell'Olivetti fu proposta solo nel 1987 quindi cinque anni dopo con gli Olivetti Protest nel 1987 la Commodore già svettava con la MIGA 1000 e proponeva MIGA 500 computer con un mega di RAM 8 MHz di Glock con Motorola 68000 CPU e stratosferica poi chip grafici chip sonori quindi una multimedialità fantastica mentre l'Apple rispondeva con Apple 2GS un computer a 16 bit con un buon suono una buona grafica ma decisamente troppo caro e troppo costoso rispetto ai più potenti e performanti e molto più economici specie nella forma della MIGA 500 della Commodore ecco nello stesso anno in cui c'era tutto questo i pazzi furiosi della Olivetti in Italia proposero computer ad 8 bit derivati dal BBC Accord praticamente identico che fu cambiato solo il case oppure proposero un PC128 un TomSom che di fatto era una specie di ibrido simile ad un Apple 2 con il registratore ma i due computer della Olivetti Protest però adesso addirittura oltre che impotenti rispetto diciamo a quello che si trovava già sul mercato erano perfino incompatibili ora adesso simpatici ascoltatori ti chiedo di immaginare con me in questo podcast immaginiamo di entrare in una terra incognita in un'ucronia informatica e ci chiederemo cosa sarebbe successo se l'Olivetti avesse preso la motherboard dell'Olivetti M20 quindi con la introduzione poi dell'M24 riponendo fuori dal mercato l'Olivetti M20 l'Olivetti poteva depotenziare la scheda madre dell'Olivetti M20 ed adattarla alle specifiche MSX per poi proporre nel 1982 un Olivetti MSX di fatto possiamo immaginarlo un po' un case simile all'Olivetti PG-128 però un Olivetti MSX nel 1982 capace di far girare tutto il software MSX che in Giappone e nei paesi asiatici stava diffondendo insieme ai rubottoni giapponesi in Italia sbarcati nel lontanissimo 1978 nel 1982 avrebbero potuto avrebbero potuto giungere in Italia anche tantissimi giochi linguaggi e software giapponesi ed asiatici tradotti ad esempio in italiano dalla Olivetti oppure da una sua controllata e collegata per MSX la linea home computer della Olivetti con un prezzo aggressivo inferiore al Commodore 64 essendo appunto la macchina già dotata di registratore ma ovviamente essendo Olivetti MSX assemblato in Italia e non altrove con una lira svalutata l'hardware italiano per home computing sarebbe stato più economico dei prodotti americani Comodo Apple ed MSX ad un prezzo un computer più competitivo la linea Olivetti MSX sarebbe stata meno costosa dei blasonati Olivetti M24 che invece all'epoca avevano prezzi di vendita superiori ad una Fiat 131 Mirafiori CL possibile però che la linea degli Olivetti MSX per home computing avrebbero potuto anche essere esportati avrebbero probabilmente trovato perfino anche una buona accoglienza in Europa dato che la lira salutata avrebbe aiutato le esportazioni e il tantissimo software in Asia avrebbe sicuramente arginato l'invasione Apple e Commodore in Europa tuttavia per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima l'Ucronia finisce qui l'Ucronia l'Ucronia